ciao benvenuta vieni prego bene noi espresso bravi italiani assolutamente con la mocha tradizionale io sono molto pigro e quindi facciamo la colazione con calma ci prepariamo la spremuta ci prepariamo il caffè biscotti marmellata tutto a noi piace la convivialità quindi quando arrivano gli amici vogliamo che si sentano a loro agio che si mettono tutto intorno quindi abbiamo un po di poltrone divani per mettersi tutti in cerchio come vedi a noi non abbiamo paura dei colori ci piace mescolarli tanto insieme anche perché questa casa è un assemblaggio di tanti oggetti diversi ognuno con una sua storia ognuno con una sua percorso particolare quindi non riusciamo a essere così controllare così tanto le cose ci piace che siano mescolate come vengono noi vorremmo essere rock ma forse siamo barocco la risposta giusta è specchio e gli specchi sono sempre una cosa che ci piace inserire come per esempio nel nostro bagno più doccia in realtà perché a milano siamo sempre di corsa quindi doccia ci piace molto la pittura per esempio abbiamo ci piacciono cose soprattutto fatte da artisti che sono anche nostri amici in particolare voglio farti vedere questi che sono di un artista che si chiama giovanni di francesco e queste sono ritratte di noi due siamo io e fabio queste lampade ci seguono dappertutto queste sono delle lampade che ci piacciono molto sono di castiglioni perché si possono funzionare con una doppia luce da sotto o da sopra avere sempre la possibilità di suscitare un interesse una curiosità vogliamo sempre trovare delle soluzioni che siano soluzioni anche emozionanti o inaspettate grazie mille paolo per la visita grazie a te milanese super italiana ciao 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 ciao